C'è dubbio, è un salto di qualità e un cambio di strategia che probabilmente tiene due elementi sui quali ci si interroga, cioè elementi locali o al-Qaeda. In passato ci sono sempre stati attacchi, diciamo il modello di attacco di al-Qaeda, quello tradizionale, è l'attacco suicida. I gruppi islamici indiani si sono sempre caratterizzati con autobombe a catena, 9, 10, 20, esplosioni nell'arco di un'ora che provocavano queste stragi. In questo caso si è passati dal modello terroristico tradizionale a un modello guerrigliero, di guerriglia urbana, quindi un modello terroristico ma applicato con un commando. Ricordiamo che hanno assaltato 12, 13 bersagli, obiettivi. Esatto, utilizzando però la tecnica guerrigliera in una maniera particolare, quindi applicata non come si faceva e si fa spesso nelle giungle, nelle montagne, in quelle aree dove ci sono per altre ragioni gli eserciti popolari, ma in un'area urbana, in un territorio urbano, e non seguendo la tattica del mordi e fuggi, ma utilizzando delle persone che non sono kamikaze o shahide o martiri nel senso tecnico del termine, ma che sono consapevoli di avere pochissime possibilità di salvarsi la vita, perché portano fino in fondo questo attacco contro forze che sono numericamente superiori. Quale può essere il pericolo di questa escalation? Tra poco te lo chiederò. Intanto chiedo se è arrivato uno studio di Venezia, mi pare di sì, perché lo vedo. Il grande Umberto Garimberti, che io saluto e ringrazio molto di essere qui con noi stasera. Buonasera, professor Garimberti. Buonasera. Tra poco parleremo anche del suo libro, Il segreto della domanda.